A me già troviamo qualche scheletro, qualche acetino delle suore, te lo sto registrando vedi eh, quindi siamo doveva essere una visita all'ospedale per farmi una visita io e invece stiamo facendo una gita all'ospedale vecchio anzi, nelle catacombe nelle catacombe il terrore potrebbe essere qualche topo ma guarda che bello ma c'è una cantina che belli i tetti e poi c'è un cancello ci sono dei un armadio ah guarda che c'è là il coso delle candele delle offerte e che non è bello scusa e qua c'è un'altra ancora una catacombe prendo la ragnatela ci sono un po' di ragnatela là che continua? no tubi di fognatura però è murato là forse l'hanno aggiunto tutto muri a secco interessante guarda e qua ci sono poi un po' di ammarazzi anche di una certa simpatia questo cosa sarebbe? questo cosa poteva essere? una stufa forse forse è una stufa e qua colpo di scena certo qua i topi ci vengono essere per forza però non ce ne puzza i topi forse al buio no però qua c'è un cancello tutti i flaconi i matracci un po' di medicina qua i topi ci sono sicuro e perché con tutta sta carta? c'è un po' di medicina vediamo quei contenitori di vetro quali? cosa sono? medicina? sodio sodio? ah perché? un pappagallo sì i pappagalli non possono mancare mi sono riempito di ragnatela nel frattempo anche qua foto destra in basso ah questa è interessante anche quella borsetta questa qua rotatorina usibili le cose paraffinastere le cose ma non lo so pepe è forse bello sta o meno questa cosa vediamo come stai questo si potrebbe portare tutto ma se tu lo prendi e te lo festivizzare come è che c'è la rana di succe porco giuda che sono? tieni il flacone di flebbo allora lo scatolo è bello è bello questo anche questo è eccezionale è bello il resto è eccezionale vediamo guardate qua addirittura c'ha due manici che venivano sigillati c'ha due manici guarda che bello guarda che forte e su tutti gli archi belli sono stiappa incredibile chissà che c'era qua sento un deposito di stiappa incredibile incertamente cercano un po' di uscoltare ci vedi? si no avevo visto qua vediamo che puoi illuminare qua la mia sinistra no ossa o no si vertebra si si ne ho trovato i fetini che cercavamo si si proprio vabbè anche in qualche modo in qualche modo cosa succede no magari sai ma guarda guarda qui guarda che c'è qua oh ma guarda un po' il trono incredibile cos'è? questo la chiesa fosse nella cappella vediamo qua i tuoi piedi da destra cos'è? ah una scopa no no è un cos'è un ah vabbè si sì cos'è insomma mica l'antica no che stai simbatico questo coso ah che cos'è molto strano c'era l'elettroshock da girare? ma 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 che bello questo cos'è? cose mediche buh giuro non sapevo vendolino questa è una cosa di una qualche caldaia però guarda è bello bello queste sono cose belle ma di questi guarda di questi ce ne devono essere diversi di stevani perché è tutto con il suo sopoglio che c'è il sottotevano che c'è il sottotevano che c'è il sottotevano e quindi in che c'è il sottotevano Grazie a tutti.